Sì, è stata personalmente sicuramente una giornata bella per questa doppietta che cercavo e comunque mi ha dato una soddisfazione dopo un periodo un po' difficile, quindi sono contento. Per il pareggio ovviamente se avesse portato tre punti sarebbe stato molto più bella e l'avrei festeggiato molto di più. Sì, ormai sappiamo che ogni partita da qui alla fine è una battaglia, tutte le squadre si giocano qualcosa e noi dobbiamo avere ovviamente più voglia degli altri perché siamo là sotto, però anche oggi un pareggio che può sembrare inutile, però sono quattro punti in altre due partite, diamo continuità e ci prepariamo questo rush finale. Grazie